La sensazione è che la Lazio è riuscita a fare la partita che aveva preparato, quindi aspettare la Roma e poi colpire appena c'è stata occasione. Sì, noi abbiamo fatto una grande gara e avevamo un bel vantaggio, quindi l'obiettivo era passare il turno e siamo riusciti. Un po' soffrendo, ma sapevamo che c'era da soffrire stasera, abbiamo sofferto tutti insieme e alla fine meritatamente andiamo in finale. Adesso la grande soddisfazione di giocarsi in una finale qui, poi in casa, davanti al proprio pubblico? Sì, già abbiamo perso due anni fa una finale e speriamo questa volta che vinciamo. La qualificazione non è stata mai in dubbio per come si è sviluppata la gara? Secondo me, ripeto, avevamo un grande vantaggio dalla prima partita, la prima partita l'abbiamo fatto veramente alla grande, su tutti i punti di vista, tatticamente. Come una squadra matura e esperta stasera era da passare il turno, noi abbiamo fatto. Bene, grazie.